Mi piacciono, mi piacciono, preferisco anche un cazzo di Kinder Bueno, però mi piacciono. Mi piacciono un cazzo. Mi sa che è meglio quello punto io, se ho notato di una parte in cui dico di Kinder Bueno, vedi, preferisco un cazzo. No, no, lo punto io. Pronto? Vai. Allora, abbiamo queste. Queste, quindi già plurale. Perché sto silenzio? Perché non riuscivo a metterle a fegge? Allora. Non so cosa sia, ma ne prendo una. Ci fa luce. Vedete, sono così. Dai, apri la bocca. Non è un cazzo che mi ha fatto. Mastica i di ciugno. Oddio! Anche quell'urlo. Di cosa sa? Ma sono caramelle salate? Salate? Cazzo è? Carne. Caramella è la carne. Allora, sono caramelle... Caramella è dolci e acide. Ma dolci? Cioè ti prego, assaggine una. Madonna, sono schifosette. Quindi approvi? Non approvi. No, approvi. Te ho voto uno. Guarda che sono collose come la bocca. Ma sono schifosissime. Ma! Ma! Forse ma... Ma minchia. Se... Oh! No! Non so farà tini! Ma dai! Ma cazzo è... Ora non possiamo più... Almeno tu se vedi li mangi, io no. Su la mia donna oltretutto ne fate cadere. Cioè non posso più mangiarmi il cioccolatino. Perché lei deve spavocchiare l'amica che si è tolta dalla bocca. Cioè... Cazzo! Uffi! Rambo! Rambambito! Che sei mu? Aspetta! Vai! Che sei mu? Cioè lo vede se vuol dire ci siamo. Non che scemo, eh! Abbiamo solo quel po' tre persone inizialmente. Esatto. Non lo capisco. Allora, io ti do... Oh! Oh, ma non è che guardi? Ma no, no, non ho guardato. Ho preso... Fate coprire tutte le cose, però, pardonemmo. Ok. Allora. Questo. Che... Vabbè. Apriamo. Oddio, patatine! E vediamo. Mi sa di patatine questo l'amore plasticoso. E... Apri la bocca... Apri la bocca. È grosso? Sì, è abbastanza grosso. Vai, tutto in bocca. Eh, vai, vai. Tira, tutto in bocca. Vai, vai. Vai, ancora. Vai, ancora, ancora. Vai, vai, vai. Vai, ancora. Ecco. Te l'ho detto che era lungo. Che era grosso. Buono. Indovinate un po' uva. Eh, sì, tanto per cambiare. Caramella e l'uva. Sì, esatto. Cioè, sono caramelle lunghe. Così. Penso che sia uva e limone. Però io ti ho dato quella gialla. Come cazzo fa a essere tutto uva? Ma sono bellissime. Ma aspetta. Ma farò se uva è. Ma le puoi mica cozz... Cioè, aspetta. E diutico di tipo qua. No, sono buone. Puoi anche farci questo. Vedi? Ma quella... Quella rosa fa schifo, davvero. Ma mi hai dato la rosa o la gialla? No, la gialla io ti ho dato. Devo assaggiare anche la rosa. Tu assaggia questo. L'ho creato per te. È la mia creation. È tutto io. La rosa devo assaggiare. Buona. La fa prova. Voto 4. Magari non piacciono le cose aspre. A me sì. La c'è da prova. Voto 1. No. Buono. Le fate vedere. Che schifo. Sì, sì, le fate vedere. Che puttia. Vengati. Prego. Prego, tocca a te. Cretino. Questi. No, questi mi sa che sono buoni. Sono... Che confezione è semerrante. È vero? Eh sì. Sono questi. E qua c'è la confezione. Mi cade tutto su quel cazzo di cioccolatini. Ma stava bene. L'unica cosa davvero buona. No, no. Anche questi mi sa che si spacca al bugi. Ma va bene. Apri. Cacacà. Ma che cosa? Vai. Molto. Cos'è? Patatina ricoperta di cioccolato e di caramello? Ma che cazzo dici? Ero pochi alla fragola. Non hai pochi. Guarda. Tra l'altro pare che figo. Hanno il cuore. Scusa, io voglio assaggiare. No, è vero. Ora che ve lo dici, sì. Però lì per lì. Mi sono di caramello. Ma se non vuoi avere. Non fa prova e ti voto 4 e mezzo. No, ci ha prova e ti voto 4. Guarda, finora sono i miei preferiti questi. Tutto il cioccolato. Il cioccolato è banale. Questi sono fini. Eh, va bene. Prego. Prego. Oggi sei il tirchio di voti, eh? Io? Eh beh, certo, eh. Bisogna limitare sempre più... Lo sei cercato. Guarda che figlio. Esatto, allora. Allora, vediamo questo. Cos'è quella voce? Ti conosco troppo bene. Ma quale voce ho fatto? No, no, ti giuro. Ti ho messo... No, no, davvero. Non ho messo niente. Allora. È come se ti guardassi. Guarda, giuro. Ma cosa sto facendo? Apriamo. E... Apri la bocca. Buona. Sono patatine al pollo? No. Sono patatine... Alle patatine fritte. Sono patatine alle patatine fritte. Sono le patatine fritte del McDonald's. È uguale. Sono... No, sono alla carota e... Della maionese. Che cazzo è? Carota. Sì. Vediamo. Sono patatine... Ma che buone. Ah, queste le avevo già segnate. Però non le ho riconosciute. Merluzzo. Merluzzo. Non ne ho neanche capito. Cioè, questo sarebbe un merluzzo. Questo sarebbe un merluzzo. Mi piace. Ma è un po' piccante. È buono. È buono. A me piace questo. Un po' piccante. Ma aspetta. Allora. Patatine al merluzzo. Con pasta. Burro. Salsa di burro. E maionese. Cioè, ho preso 20 kg. Però sono buono. Oh, a sentire l'odore sa di mettere il maionese. Sì. Va bene, lo ho a prova e il voto 3,5. Lo ho a prova. Lo ho a prova e il voto 4. Cioè, non è che sono sta meraviglia, però mangiabile. Sì, sì, è assolutamente molto. Vai. Qual è? Ma quanta roba ci stanno. Eh? Tu credo che era un po' che invece no. No. Queste sono pacchette cinesi in regalo. Quindi non gli posso infilare le pacchette cinesi di voi. Io le posso mettere in culo. No. Oh, la marca Luke di nuovo. Oh, Dio. Non promette mai bene. Oh, Dio. Per quello te l'ho detto. Per farti cagare. Che confezione bellissima. Le confezioni sono sempre un amore. Poi dentro. Devono confezione qualche modo, infatti. Allora. Di dentro, questa confezione è pucciosa. C'è una cosa schifosa. C'è questo. Apri la bocca. No. Ha il tutto? Mi sa che sia quello che penso. Vediamo. C'è il cioccolato alla fragola? Sì. Com'è? È buonissimo. È buonissimo. C'è proprio di voto 5. È squisito. No, scusate. Ma dentro è molle. Sì. C'è proprio la crema di fragola dentro. C'è. Vedete che fa la sfilacciata. Non so se si vede. C'è proprio la gelatina. C'è proprio la gelatina. Si guarda. Buone. Molto buono. Eh sì. Ho fatto provare il voto. Cosa hai detto? 5. No, l'ho detto io. 5. Assolutamente. Buonissimo. È buono. Molto bene. Ma sta tocco dritto. Non è che poi ci sta andando così male. Aspettiamo a dirlo. Devo dire. Vabbè, tanto lo verrà toccato a te. Oh, ma sta bene. E prendiamo questo. Dunque, questo. Così. Vabbè, se non lo sai, quello mi dì. Eh no, infatti, non so minimamente che cazzo sia. Quindi è una forma ambigua, ma tot. È una forma ambigua, sì. Però anche qui c'è un qualcosa di puccioso. Oh, allora ho proprio la confezione. Eh, sti cazzi, cioè. Se è pucciosa, la voglio. Però non posso più vederla. Devo tagliarla, non riesco ad aprirla. Ok. E, va bene. Allora, apri la bocca. Quanto bene è che è buono. Non è buono, no, non è molto. Non è buono, non è buono. Te lo giuro. È una belloche con dentro la marmerata di fragole. Eh, sì. È una briochina, mini briochina, barra, biscottino. Con all'interno proprio... Ma che pucci, ma è la principe di Super Mario. Con all'interno, aiuto. L'ho fatto, provate, voto 4. La fragolina, io assaggio. Buona. Non lì si può dire niente. Sì. No, basta. Eh, non è malvagia. Ma sta andando troppo bene, che cazzo? Ma doveva essere una challenge? Un po' finita. Tra l'altro, sì, indoviniamo tutto perché è tutto a base di fragole. Eh, sì. Lo scorso mese era tutto a base di Pokémon, allora è tutto a base di fragole. Forza. Questa non te l'hanno mandato omaggio, quindi c'è solo la roba buona. Perché ti mando omaggio a me mi fettano gli scampi. È vero. Tutto torna. Tutto torna. Oddio, non c'è qui niente. Ah, no. Mi sa che è l'ultima. Controllo. Allora, sì, l'ultima cosa. Bene. Oh, che confezione puccia, non la distruggo. Bene, ok. Guardate la confezione puccia. Oh, che amori. E dentro c'è un cazzo. Ah, sì, no. Oh, che carino. Apri. Mordi. Bravola. Con dentro dei pezzettini. Che cazzo è? Allora. Mh, che buono. Mh, che buono. Cookie Crisps con Double Berry. Berry cos'è che mi metto a mertillo? Strawberry. E fragola. E fragola. Berry. Ora ce lo scriveranno i mille nei commenti. Sicuro. Sì, lo sappiamo che siete preparati. Non c'è bisogno. Che cazzo. Vabbè, comunque buono. Vabbè, è un frutto di quelli rossi. L'off si approvano, voto 5. Buonissimo, bello croccantoso. L'off si approvano, voto 5. Assolutamente. E mancano. Manca questo, nella Tokyo Treat, che troveremo il modo di adoperarlo. Esattamente. Lo butterò oggi, ci gangerò solo, non lo so. Però l'ho già fatto. Quello che fa sempre. Non avete idea di cosa mi ha mandato oggi? Cosa ti ho mandato? Dell'audio che mi ha mandato oggi? Non ne avete idea, guarda. Mi sono spaventato, io ho lasciato il telefono. Così. Gli ho mandato una volta dei miei plof. È un simbolo d'amicizia. Dei suoi plof. Secondo me l'alluvione l'ha causata lei, guarda, nel 2011 e nel 2013. Non capisci niente dell'amicizia, tu. Bisogna mandarsi il plof? Nei momenti di bisogno ti penso. Allora la prossima volta ti scorreggio un buco. Così, a me non ti faccio capire quanto ti ho detto. Dai, mi metti un po'. Un cazzo. Tra l'altro, all'usare questo è Danilo. Fadi, che meriducata. Va bene, questo è tutto. E dunque, questa è oramai chiaramente la seconda parte. Se non avete visto la prima parte, cliccate qui. Qui. Mi raccomando, qui. E basta. E questo è tutto, ciò darò fino. E dal passio di Danilo, ciao. Ciao.